Ha un terribile mal di testa! Eppure il teletrasporto sembra così facile nei film! In effetti è facilissimo! Basta non teletrasportarci a 30 metri d'altezza, no? Aspetta! Perché ho due piedi sinistri? Così non riesco a ballare la Orange Justice! Ehi ragazzi, non avete mai visto un bacino particolarmente ballerino? Aspetta un attimo, dov'è il ragazzo? Eccomi qui! Penso proprio che sia questo, il lingotto d'oro! Dopodiché ci rimane ancora da trovare la divinità d'oro e riprenderci il teschio dorato da tu sai chi! Bell'inventario, Blade! Fammi vedere se hai imparato! Uno, due, tre! Pronto, baby! Su, su! Hop, hop, Zack! Che poteri ha il lingotto d'oro? Golden Star! Conosci questa testa d'osso? Ci allenavamo insieme, ma poi abbiamo preso strade diverse. Lui! Ma certo! Quell'ingotto ti dà una forza super! Beh, almeno non ha dei rinforzi. Almeno non sono tutti dotati di super forza. Ho visto di tutto nella mia millenaria esistenza, ma non mi era mai capitato di incontrare degli scaletri così stolti! Pensavate veramente che avreste potuto prendere i tesori d'oro dalle mie scrimfie? Quindi, qualcuno ha un piano? Utilizziamo i tesori! Carica! Sei il mio migliore amico, Blade? Come ci sei riuscito? Non ne ho proprio idea. Se vuoi che un lavoro sia fatto bene, fatelo da te! Forza! Datemi i tesori! Scordatelo! Sei un cattivone! Che cosa hai fatto? Cosa vi posso dire? Sono cattivo fino all'osso! Ha 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 ha!